ecco una delle concept cara più estreme mai realizzate è la nuova peugeot 308 r hybrid è stata interamente sviluppata da peugeot sport che non si tratti di una classica macchina lo si capisce subito il frontale molto più aggressivo grazie a un paraurti dalle forme muscolose ma ancora più interessante è l'aspetto tecnico di questa vettura parliamo di un ibrido plugin da 500 cavalli con trazione integrale ciò consente a questo piccolo mostro di scattare da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi netti spingendosi fino ad una velocità massima limitata elettronicamente di 250 chilometri all'ora